Dopo gli attacchi registrati a Monbaroccio e Monte Felcino la scorsa settimana, i lupi hanno colpito ancora, ma questa volta a Ronco Sambaccio, a circa 30 metri dal centro abitato. E questa è la scena che oggi si è presentata di fronte ai nostri occhi, forse mai vista prima nella città di Fano. Un branco di lupi ha sbranato 17 daini nell'incredulità di Monica, che tiene questo allevamento amatoriale, seguendo le orme del padre che cominciò 40 anni fa. Solo quattro bestiole si sono salvate, due maschi e due femmine ancora impauriti. Gli altri che hanno lottato con tutte le forze per salvarsi purtroppo non ce l'hanno fatta, c'è chi è morto di infarto e chi per sfuggire alla furia dei lupi ha provato a scappare sfondando questo cancello in vano. Ed ecco quello che è rimasto, carcasse a terra, parti di organi e mucchi di pelo ovunque, sulla cenere invece le impronte ben visibili e profonde delle zampe dei lupi. Più in su, infine, vicino all'ingresso, i corpi dei daini che dovranno essere smaltiti, portati lì da chi li accudiva con amore da tanti anni. È successo nella notte tra venerdì e sabato e poi tra sabato e domenica. Quindi abbiamo avuto in verità tre attacchi perché anche stanotte sono tornati, non hanno ucciso altri capi però hanno continuato il passo, iniziato il giorno prima. Ed erano di varie età, c'erano daini che erano con noi da 12-15 anni, c'erano daine che erano incinta, c'erano dei cuccioli. E appunto 4-5 di questi sono stati quasi completamente mangiati mentre gli altri sono stati solo uccisi. E questo è il punto in cui avrebbero scavalcato. Nonostante la rete alta a 2 metri piegata verso l'esterno, presente in tutto il perimetro dei 4 ettari di terreno, i lupi avrebbero utilizzato quel terrapieno per prendere lo slancio, saltare ed entrare. Poi è venuto anche ovviamente il servizio veterinario a verificare con varie strumentazioni, insomma anche per capire il tipo di morso, il tipo di attacco. Ci hanno purtroppo confermato che sono lupi e loro hanno attaccato al collo, quindi la giugolare e la carotide e poi l'animale viene soffocato e a quel punto cominciano a dilaniarlo dal fegato eccetera. Siamo preoccupati, prosegue Monica, perché abbiamo paura che i lupi possano tornare ancora per finire l'opera. Ma qui nessuno sa dirci cosa possiamo fare, visto che si tratta di specie protette. Ad oggi infatti non esistono strumenti davvero efficaci che gli allevatori o i privati cittadini possano utilizzare per difendere se stessi e i propri animali. Io so dove passano, so che tornano la notte ma non so come fare per fermarlo tranne provare a mettere delle paratie e qualcosa ma quando gli bloccherò quel passaggio ne troverà un altro perché poi i lupi sono molto furbi e quindi siamo preoccupati perché le notti in bianco aumenteranno e non siamo preparati e quindi un'aggressività importante, branchi di lupi perché non sono due, sono probabilmente cinque adesso non abbiamo il numero preciso ma sembrerebbe così, che girano per le nostre valli anche in pieno giorno li abbiamo avvistati in questi giorni e noi siamo in balia di noi stessi perché ecco il fatto che loro non attacchino l'uomo è una statistica, non è una certezza.